quanti anni hai quest'anno compio 40 anni e che lavoro io sono un ingegnere mi occupo di commerce di commercializzazione sviluppo di piattaforme web per la vendita online sei candidato sono candidato alle elezioni amministrative comunali di nola 2022 del 12 giugno con la lista perno la nostra che è una lista civica fatta di persone giovani e professionisti che si vogliono mettere in gioco per carlo bonauro che è una persona squisitissima oltre che essere un professionista riconosciuto magistrato e quando portiamo questo nome all'interno delle case delle persone troviamo un riscontro incredibile in termini di consenso e di apprezzamenti quindi tu sei candidato con la lista hai detto la lista perno la nostra che è una lista civica al supporto della coalizione del sindaco nasce dall'idea di alcuni cittadini più o meno della mia età coetane che vogliono diciamo mettersi in gioco per dare uno slancio di cambiamento a quella questa città in modo da poter portare le istanze di tanti cittadini all'interno dell'amministrazione